Va bene? Posso parlare? Faccio un jump al micro o se non faccio una scapputa? No, no, è vero, buono. Oh, jump, jump. Ragazzi, guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. La Pepe ha allestito questo settore dedicato ai Queen, con manichette, 45 giri, vinili qui Rock Montreal, tazze, Funko Pop che vanno da impazzire, e visto che la rivoluzione ormai è improntata sulla riscoperta dei grandi gruppi del passato, vi diciamo quello che è accaduto oggi sul nostro sito www.nizacca.com e da questa mattina che stiamo pubblicando pre-order a non finire, compresa anche una compilation giapponese uscita soltanto per il mercato nipponico, dei grandi Queen, la cui schianetta è stata creata da 200 fan giapponesi dei Queen. C'è l'idea di Dio, ragazzi, ma non è soltanto questa l'ultima novità, non vi vogliamo dire tutto perché domani vi proseguiremo anche altre cose, che domani arriverà una cosa che aspettavate da morire. Vi diciamo che per quanto riguarda i Pink Floyd, stanno ripubblicando anche i Vinili, Nick Mason, e fra poco li pubblicheremo. Abbiamo pubblicato, importante, sempre sul nostro sito www.visecchia.com il pre-order dei due super audio CD degli Yes 90125 e degli Yes Album fatti dalla Analog Production, con il tecnico del sonno Kevin Gray, lo stesso della Blue Note, e c'è anche in pre-order il doppio vinile 45 giri di 90125, ma troverete una marea di pre-order fantastici. Vi raccomando, vedete lo shop, noi saremmo sempre aperti come al solito. Le magliette dove si trovano? Le magliette le trovate sul sito www.edfpoint.it dove troverete anche i DVD, i Blu-ray, le puntine di cab per giradischi, tutti i gadget, i merchandise, insomma, abbiamo due siti, uno per i vinili e per i cd, che è www.visecchia.com e l'altro per bagliette, puntine per giradischi, cavi, anche audio per i vostri impianti stereo e per le cuffie, insomma, abbiamo di tutto, per cui seguiteci sempre, un bel like non guasserebbe, non avete idea le sorprese che vogliamo farvi, mi raccomando, pre-order, 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 la rivoluzione, stanno riscoprendo i grandi gruppi, anzi, a proposito, abbiamo pubblicato anche i pre-order delle nuove edizioni dei Duran Duran, anche loro, insomma, una marea da stamattina che stiamo pubblicando, per esempio, io faccio un altro sorpetto, attento alle tazze, che chi rompe paga, eh, i goci sono i suoi, esatto, oh, jump!